Gesù è il buon pastore che ti fa riposare. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici e buona domenica. Accogliamo la parola di Dio, leggiamo insieme il Vangelo secondo Marco, capitolo 6, dal 30 al 34. In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro, venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro partire e capirono e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero. Sceso dalla barca e li vide una grande folla. Ebbe compassione di loro perché erano come pecore che non hanno pastore e si mise ad insegnare loro molte cose. Amen. Carissimi amici, in questo Vangelo e pagina che oggi abbiamo ascoltato siamo al capitolo sesto, troviamo una parte molto importante del discorso che Gesù dice ai Suoi discepoli riguardante il riposo. Ne abbiamo parlato anche venerdì scorso, qualche giorno fa, nella prima serata del seminario in vacanze con la Bibbia. ed è importantissimo perché la parola, la Bibbia, il Vangelo di Gesù ci fa comprendere in quale direzione andare per avere un vero rilassamento, un vero riposo. Gesù dice loro venite in disparte. Quindi è una chiamata non solo verso i discepoli ma anche verso di noi. Gesù ci chiama ad andare con Lui insieme a Lui in disparte. Questo è fondamentale per trovare riposo, stare da soli con Gesù. in un luogo deserto e riposatevi un po'. Il luogo deserto significa che è un luogo dove tu stai in intimità con Lui, lo ascolti, sei tranquillo, spegni tutte quelle voci, quelle situazioni che sempre ti tormentano e stando alla presenza Sua sei davvero attirato da Lui. Ricevi questa benedizione, questa pace che il mondo non può dare. Ecco che Lui oggi si manifesta a noi quindi come il buon pastore. E se noi prendiamo il Salmo che la liturgia ci offre proprio questa domenica, Salmo 22, 23 Il Signore è il mio pastore e non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Quando noi seguiamo Gesù, andiamo con Lui in disparte in un luogo deserto, ecco che Lui ci parla, ecco che Lui ci fa riposare su pascoli erbosi. Lui ci conduce ad acque tranquille e rinfranca l'anima nostra. Questo è davvero fondamentale, ma non basta saperlo. Saperà sì, il Salmo 23, il Signore è il mio pastore. Dobbiamo viverlo, metterlo in pratica, andare da Gesù, stare con Gesù, in disparte per fare questa esperienza. Mi guida per il giusto cammino. E proprio in questo tempo estivo in cui ci sentiamo a volte in una valle oscura, dice il versetto 4 di questo Salmo, non temere alcun male, perché Lui è con te e ti fa sentire il suo bastone, il suo vincastro, la tua sicurezza, la tua certezza. Allora vi invito oggi ad aprirci a Lui, vi invito oggi ad accogliere Gesù come il buon pastore, Gesù come colui che ti porta al riposo vero, il riposo dell'anima, il riposo del tuo cuore, da tutte quelle situazioni che sempre ci opprimono, ci affannano. Insieme a me digli, grazie, Signore Gesù, vieni nella mia vita, io ti accolgo come il mio buon pastore, voglio seguirti, voglio camminare per le tue vie. O Gesù rinfranca il mio cammino, rinfranca l'anima mia, rinfranca tutta la mia vita, io desidero, anello, stare con te, desidero fare l'esperienza delle acque tranquille nella mia casa, nella mia famiglia. Signore, voglio essere una pecora tua e in quanto pecora voglio ascoltare la tua voce e fidarmi solo di te, perché tu sei il mio buon pastore, solo tu conosci il mio cuore, solo tu mi porti su pascoli erbosi verdeggianti e io credo che il mondo questo non lo può fare, ma tu lo hai fatto sul legno della croce, morendo per me. Per questo ti benedico, ti ringrazio e ti chiedo di donarmi il tuo Spirito Santo, perché sia Lui a guidarmi a te, alla verità tutta intera e a portare la pace in tutto il mio essere. A te l'onore e la gloria, Signore, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco allora lo slogan di questa domenica. Gesù è il buon pastore che ti fa riposare. Seguiamo Lui, riconosciamoci i Suoi pecore e Lui ci benedirà abbondantemente. E vi invito nuovamente ad iscrivervi al nostro seminario in vacanza con la Bibbia e alla giornata di relax domenica 4 agosto qui a Strona per sperimentare che stare con Gesù e con la Sua parola è bello, è rilassante soprattutto in comunità insieme a tanti amici. Ci vediamo domani, buona giornata e buona domenica a tutti. Ciao! Parla, Signore perché il tuo servo ascolta Parlami, Signore Ti ascolto Ti ascolto